Il cantante britannico Lee John, ex frontman degli Imagination, band dance solo che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo nei primissimi anni 80, sta preparando il suo nuovo album, dopo Retropia del 2017, dove ci sarà anche un duetto con Massimo Ranieri. L'album Retropia è da lui molto amato in quanto unisce diversi generi musicali e quello che sarà il prossimo album sarà appunto una collaborazione con diversi artisti di diversi paesi europei, tra i quali Massimo Ranieri con il quale farà un duetto e sarà questa appunto la sua intenzione di abbracciare diversi stili, diversi generi con la collaborazione di vari artisti internazionali. L'ex leader degli Imagination ama l'Italia e oltre a Ranieri gli piacerebbe lavorare con altri artisti italiani. Massimo Ranieri farà questa collaborazione, però è un'artista italiana che lui particolarmente ama, è Giorgia, la quale ama lo stile e appunto il modo di proporsi, ovviamente anche la musica e le sue canzoni. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti